Direi che la provincia è stata l'antesignana di questo metodo nuovo di presentazione dei progetti. Potete immaginare quante richieste arrivino alla SACBO di iniziative tutte importanti, lodevoli e che riguardano comunque il territorio della Bergamasca. La provincia, il fatto di aver adottato come sistema quello di raccogliere lei le varie istanze del territorio, soprattutto di fare poi una prima valutazione che tenga conto dei contenuti di questi progetti, ma nello stesso tempo anche della loro territorialità, ha sicuramente semplificato e facilitato poi le scelte del Consiglio di amministrazione SACBO. In quanto comunque essendoci a monte una valutazione di un'istituzione importante, quale è la provincia, quindi quelle risorse che la SACBO mette a disposizione del territorio sono delle risorse che vanno a buon fine, che tengono conto quindi delle aspettative, dei contenuti e della valenza del territorio della provincia di Bergamo. Questo credo che rappresenti un metodo che anche in futuro avrà sicuramente una sua continuità.